Siamo Giorgia e siamo due ragazze che hanno frequentato il corso di interior design e product design. Ci siamo trovate al secondo anno e a lavorare a stretto contatto e il terzo anno c'è stato proprio il culme della nostra relazione professionale. Adesso lavoriamo insieme, collaboriamo insieme su vari progetti, sia nell'azienda di arredamento in cui lavoriamo, sia con l'accademia. Perché ci ha coinvolto in vari progetti che ci vedono insieme nella realizzazione. Poi ogni volta che ritorniamo qua, siamo contentissimi. Sorriso. 32 denti proprio. 32. Fai dentro. Così.